Però staccare la spina? Guardi, noi la spina l'abbiamo attaccata. Non l'abbiamo staccata. La staccata lei con Grillo, no? L'abbiamo attaccata perché? Perché c'era una situazione in cui Salvini aveva esagerato. Salvini aveva detto ad agosto voglio i pieni poteri. Tra l'altro l'aveva detto lì col cappellino, in moita, ma aveva esagerato. E aveva anche fatto uscire i suoi dicendo pieni poteri e sa quei due, Borghi e Bagnai, che ogni tanto riescono sempre loro due, che quando c'è un po' di pieni... La Ladura, l'anti-Europa. Io sono meno serio di lei, li chiamo i due Liocorni perché sono come nella barzelletta che escono sempre. Solo non c'erano... Il concetto qual è? Loro hanno detto no a questo euro. Ora Salvini poi negli ultimi tre mesi ha fatto un po' di marcia indietro, ha capito che stava esagerando. È arrivato a dire Mario Draghi, presidente della Repubblica? Lui ha detto why not? Perché no? Quindi Salvini ha capito... Poi qui però... Salvini aveva fatto una retromarcia qua. Anche lui, comprensibilmente, dopo la botta che ha preso, ha barcollato un po'. Va bene, è andato a fare i suoi. Qual è il concetto? Noi abbiamo fatto un governo... Perché rimanere... Qual era il motivo? Se non si fa le cose... Io ho detto al governo dobbiamo fare il governo per evitare l'aumento dell'IVA che vuol dire recessione. Gli altri hanno detto no, facciamolo più lungo. Bene, facciamo un bel governo lungo. Questo governo deve fare le cose. Per me, punto fondamentale è che ci sia una buona legge di bilancio senza l'aumento delle tasse e che poi dal primo giorno di gennaio, ho detto 15 gennaio perché c'è l'epifania, si vada a fare un gigantesco piano di ripartenza. Se non si riesce a fare... Si deve riuscire. Se non si riesce... Si deve riuscire. Se si deve riuscire... Eh, giretti sono... Perché sa che... Io leggevo anche nel PD Franceschini e Del Rio dico ma che credibilità ha questo paese se tutte le volte al governo italiano si va a attaccare l'Europa, eccetera. E poi non c'è la ordina... 5 Stelle però dice eh, ma noi credibili quando chi c'era prima faceva accordi con i burocrati per aiutare gli europei. Guardi, non hanno... Ve l'ha ordinato il medico di stare al governo? Non ce l'ha ordinato il dottore. Questo deve essere molto chiaro. Per cui si sta al governo se si possono fare le cose. Questo vale per tutti. Per me la cosa più giusta per l'Italia è continuare ad andare avanti nei prossimi tre anni per un motivo. Perché stiamo riducendo la spesa per gli interessi. Qual è... Cos'è che sta accadendo? 2013, quando io mi accingo ad andare a Palazzo Chigi costo degli interessi 77 miliardi di euro. sono una cifra enorme enorme 77 miliardi dovuti al debito pubblico dovuti alle spese dei nostri genitori politici. Bene. Abbiamo iniziato una riduzione merito innanzitutto di Mario Draghi e merito anche delle nostre riforme. Da 77 sa quant'è il prossimo anno? 59 miliardi. Sono tanti 18 miliardi recuperati. Io avrei un sogno arrivare alla fine della legislatura 2023 a 50 miliardi. Ce la faremo? non lo so. Quello che so dice per certo è che non si può continuare a... a 50 miliardi.